Oggi testiamo due microfoni a condensatore, il T-Bone SC1100 e il Behringer B2 Pro. Oggi testiamo due microfoni importanti, due microfoni grossi dalla forma, molto ingombrante come puoi vedere. Sono due microfoni a condensatore. Che cosa significa? Significa che sono microfoni che in teoria e anche nella pratica, detto tra noi, non dovresti usare nella tua stanza non acusticamente trattata, perché essendo molto sensibili riprendono non solo la tua voce, ma anche tutti i rimori del computer, tutti i rumori che vengono dall'esterno della stanza, tutti i rumori della stanza, insomma, creano veramente un po' di confusione a livello sonoro. Ma il grosso vantaggio di questi microfoni è che sono microfoni che hanno uno spettro sonoro molto più ampio e riescono a riprendere meglio la tua voce nella sua completezza di frequenze, soprattutto nella parte medio alta, quindi dando ariosità e intellegibilità alla tua voce. Ok, i due microfoni stanno entrando nel Tascam Mixcast 4 allo stesso gain. Entrambi, fammi controllare se è così, se ricordo bene, 25, 25. Entrambi stanno entrando con un gain di 25 dentro il Tascam Mixcast 4 e non verrà applicato nessun effetto in postproduzione, né equalizzazione, né compressione, né DS, nulla. Soltanto porterò il gain a meno 14 lufs in modo che tu possa sentire nel modo migliore. Bene. Entrambi i microfoni hanno una costruzione molto solida, molto robusta, sono veramente belli anche da vedere. Questo è più tondeggiante, più cilindrico, questo invece ha la forma del classico microfono a condensatore per antonomasia. Allora, veniamo al corpo dei microfoni. Questo ha due switch, uno dietro che è un attenuatore, quindi per eliminare tutte quelle frequenze basse dove si annidano soprattutto i rumori, e ha uno switch con tre pattern polari che sono cardioide, omnidirezionale e figura 8. Questo microfono qui ha lo stesso switch a tre posizioni con gli stessi tre pattern polari, quindi omnidirezionale, figura 8 e cardioide. Dopodiché ha due switch dietro, uno per un attenuatore a meno 10 db, nel caso in cui tu voglia riprendere fonti sonore molto forti, quindi non la voce, e un filtro come c'era questo, ok? Per attenuare tutte quelle frequenze molto basse dove non c'è la voce ma ci sono rumori e quant'altro. Entrambi i microfoni arrivano con delle valigette, te le faccio vedere. Questa qui è la valigetta del Behringer B2 Pro, e questa qui è la valigetta del T-Bone SC1100. All'interno della valigetta, oltre ai microfoni, ovviamente ci sono i ragni con gli elastici di ricambio. Questi ragni sono questo qui, diciamo è abbastanza economico, questo qui è in grado di reggere un carro armato, ok? Però entrambi i microfoni, voglio dire, sono molto molto solidi, sono belli da vedere, sono robusti, quindi in teoria dovrebbero durarti per sempre. Arriviamo alla parte economica. Questo qui costa 144 euro, questo qui siccome si trova veramente poco perché non so se la Behringer che è impegnata a copiare i microfoni degli altri forse non lo fa più, ma su qualche sito Amazon nello specifico l'ho trovato a 139 nel momento in cui ti faccio questo video. Quindi mentre questo il prezzo è sul sito di Thoman e quello il prezzo, questo qui su Amazon fluttua, ok? Però diciamo più o meno hanno lo stesso valore. Ora, tu stai sentendo la mia voce dentro i microfoni, mentre io sto parlando stai sentendo la mia voce che viene alternata, infatti lo vedi dalle scritte in sovraimpressione, il Thibon SC1100 e il Behringer B2 Pro. Che cosa ne pensi? Allora, io in questo caso, diversamente magari da altri test, da altre comparazioni, ho un microfono preferito. Vediamo se indovini qual è. Prova? Dillo? Esatto. Questo qui. Questo è il mio preferito perché anche se costa due spiccioli in più a questo, perché parliamo di 100, non mi ricordo quanto ti ho detto, 129, 139, 144, insomma siamo lì veramente meno di 10 euro, però secondo me il suono è diverso. Questo qui è un suono molto più bilanciato, è un suono più caldo, nonostante sia molto dettagliato, senti anche le frequenze alte, come si sentono bene senza dar fastidio. Questo microfono qui non è così ben bilanciato, secondo me è un po' più sbilanciato sulle frequenze alte e nota molto importante da tenere in considerazione che questo qui ha un rumore di fondo molto 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 più elevato rispetto a questo, ok? E si sente, quindi questo qui ha un rumore, se non ricordo male, 17 dB di noise, di rumore di fondo, ok? Che è veramente tanto, è veramente tanto per un microfono, quindi secondo me se Behringer avesse fatto una versione nuova di questo microfono riducendo il rumore di fondo interno del microfono, secondo me avrebbe fatto una gran cosa, perché voglio dire il Rode con la serie NT1, NT1-A è riuscito a portare il self noise a 4, 4 e mezzo, quindi voglio dire, si può fare, no? Magari non arrivi a 4, 4 e mezzo, ma da 4, 4 e mezzo a 17 c'è un mondo, quindi magari portarlo a 7, 8, 9 sarebbe stato sicuramente molto 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 meglio. Comunque detto questo, io volevo soltanto farti ascoltare questi due microfoni, ti ho detto qual è la mia propensione, cioè propendo per questo, perché secondo me è molto più bello come suono, molto più equilibrato rispetto a questo che è troppo spostato sulle alte, però magari a te questo qui piace di più. Da un punto di vista estetico io amo entrambi questi microfoni, sono bellissimi, veramente bellissimi, però sappiamo bene che i microfoni non devono vincere il premio come oggetto di design dell'anno, ma devono essere funzionali al nostro obiettivo, ok? Quindi ti invito sempre a riflettere non tanto sulla forma del microfono, ma sulla qualità dell'audio. Mi rendo conto che non puoi provare tutti i microfoni del mondo, però canali come il mio servono appunto a farti testare stessa voce, microfoni diversi, senti appunto come cambia la voce in base al tipo di microfono e quindi te ne puoi andare per un'idea di quale microfono è più caldo, è più scuro, è più chiaro, è più freddo, eccetera, 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 ok? Ovviamente fammi sapere la tua opinione, magari a te piace più questo, va bene? Io ti ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo settimana prossima, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!